Signori, oggi ho una notizia stra buona e una notizia stra cattiva. La notizia stra buona è che siamo nel primo dei tre speciali e oggi siamo in quello di Brawl Stars. Non voglio perdermi tanto in chiacchiere perché so che il video durerà tantissimo perché dovrò giocare con tantissimi di voi. Sto registrando l'entro un po' prima così la monto, vabbè, cose mie. Ma passiamo alla notizia bruttissima. La notizia bruttissima, come avrete notato, tipo come per prima cosa, mi son fatto la barba. Mi mancherai, barbettina mia. Devo ammetterlo, mi mancherà la mia barbettina, però speriamo che ricresca intorno a una settimana. Mi mancherà. Ma adesso, signori, senza perdere altro tempo e senza stare a notare troppo che sembra un dodicenne, iniziamo. Signori, iniziamo subito con il primo in tutti i sensi perché, vabbè, lasciamo perdere battuta infelice. Tra l'altro sono un quarto alle tre. Ho detto accedo per vedere se c'è qualche aggiornamento strano e invece ho trovato già 7000 di voi online. Ma ci sta così. Così almeno iniziamo un po' prima, dato che siete in 7.752.000 e vi devo fare tutti. Sperando di star registrando tutto, ma credo proprio di sì. Col buon Spike06 che utilizza è il primo, che non è male, mi piace come brawler. Tra l'altro ho appena ucciso uno, interessantissima come situazione. Dicevo, mi piace come brawler, però non lo sto usando più di tanto. Vabbè, ci stanno picchiando. Perfetto, sono già morto. Ti prego, Spike, scappa. Spike, scappa. Siamo tutti con te, Spike. 5 secondi e posso tornare anch'io. Non so quanto posso durare. Ah, ti sei messo in un angolino. Io, tra l'altro, sto usando Colt. Si chiama Colt, se non sbaglio. La vedo farraginosa come situazione. Molto farraginosa. Esatto, sono ancora morto. Spike, è tutta colpa mia. Oddio, scappa. Grandissimo. Colpo da maestro. Colpo da maestro. Qua si vede la differenza tra un uomo e un bambino. Lui è l'uomo, io sono il bambino. Tra l'altro, anche con sta barba. Vabbè, lasciamo perdere. Devo smettere di parlare della barba. Questi due sono agguerritissimi. E diciamo che la vedo un po' dura. Non a causa di Spike, bensì a causa mia. Perché il mio compagno è devastante, ma io sono decisamente troppo scarso. E siamo morti. Colpa mia? Molto probabilmente sì. Terzi? Dai, ci può stare, ci può stare. Comunque, oh signori, ora lo dirò con ognuno di voi. Siete troppo forti, a differenza mia. Ora io lo scrivo anche. E quindi il primo se n'è andato. Ora dovrei segnarmi quelli con cui ho già giocato e quelli con cui non ho ancora giocato. Ma guardate quanti sono. Mad City. Continuiamo con Mad City, il nostro secondo amico che salutiamo. Tanto c'è anche fatto gli auguri per i mille iscritti. Quindi vi ringrazio ancora tutti. E metterei pronto. Tra l'altro, ho appena letto un messaggio in diretta che mi avete scritto uno da lontano e uno da vicino. Mmm, manita è da lontano o da vicino? Non lo sapremo mai. O meglio, non lo saprò mai finché non finirà questo video. Dunque, sempre sopravvivenza, sempre in due, sempre alla ricerca di una bella vittoria. Ora, lui dice di andare di là, io suggerisco di andare di qua. Ci spacchiamo questa cassa. Quel suo brawler? Eh, non l'ho mai visto. Sinceramente non l'ho mai visto. Quindi non ho idea di cosa faccia se spari da lontano o da vicino. Di lì si stanno picchiando con una cattiveria inaudita. E io direi di proseguire, esatto, a picchiare lui perché non aveva vita. Tra l'altro abbiamo un tipo dietro. Mad City. Brother. Ci abbiamo uno qua. Che facciamo di facciare l'agguatone? Però ci stanno arrivando in bambassa. Arrivano in bambassa. Di là si stanno picchiando e noi ne approfittiamo, esatto, per ucciderlo. E siamo già nello scontro fino a... Vabbè, ok, puscia. Puscia, puscia, puscia. Brother. Pusciamo. Dai che sei qui dentro, ti abbiamo visto tutti. Dai che non c'hai vita. Ah! Tornato in vita il socio. Attimi di tensione. Potevamo chiuderla. Uh, bello quello lì, spara i razzoni. Ma va, che delirio. Vai, 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 uccidilo, uccidilo. Bene. Abbiamo vinto. Yes, subito vittoria. Così. Così. Come se non ci fosse un domani. Benissimo, benissimo. Tra l'altro Nita, che all'inizio snobbavo, ma è tra i miei preferiti, io metterei un gioco ancora. Così ci facciamo anche la seconda, ma credo proprio che la partita ce l'abbiamo. Quella che caricherò, perché non credo che ne caricherò due con ognuno di voi. Ne metto magari una, la migliore, con ognuno di voi. Non lo so, devo ancora vedere, devo decidere. Ok, signori, mi sa che metterò una partita con ognuno di voi a testa. Ora, ho fatto appunto la prima, avrò inserito quella e l'abbiamo salutata. Accettiamo anche lui e giochiamo con il terzo. Venite uno dietro l'altro, proprio siete tantissimi. Attenzione, vorrei entrare in squadra. Colpo di scena, possiamo farci un trio? Accettiamo? Attenzione, è partito il trio delle meraviglie, così inaspettato. Non se lo aspettava nessuno. Sono Sbez che saluto e... Oh my god, it's... E certo, è certo. Allora, non so, scegliete voi se fare footbrawl oppure arraffagemme. Tra l'altro c'è anche il ride che non ho ancora sbloccato, non so cosa sia. Ok, vedo qua che i misoci hanno scelto footbrawl, però io vorrei cambiare brawler. Perché footbrawl è molto da lontano. Ah, no, beh, Nita ci sta. No, facciamo ancora Nita, proprio gameplay totale Nita. E ci sta, tra l'altro, anche quello lì che sta usando Sbez. Non so il nome, perdonatemi. Ho scoperto che tipo fa un attacco da un adulto, tipo... Vabbè, lasciamo perdere cose mie. Ora, non so se ve l'avrò fatta vedere, però ci stava un botto alla prima partita. Quasi, quasi, ve la faccio vedere anche se abbiamo perso. Tutta una lotta a centrocampo qui, eh. No, la volevo prendere, no, 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 picchia, 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 picchia. Eh, ma io ho troppa poca vita, sono troppo più scarso. Eh, vabbè, sì, sì, è fortissimo quel brawler. È fortissimo in sta modalità, è troppo forte. Ci sono dei brawlers troppo più forti di altri in alcune modalità. Sparala via, sparala via. Grande, oh my god. Avrei dovuto prendere Bull, perché distrugge le casse. Vabbè, qua non ci ha picchiati, rimane solo Betz, mi sembra. Masser ha la palla, corre sulla fascia. Masser non ha paura di niente. Non ha paura di niente di nessuno, schiva tutti, è un dribblatore. Ma, ah, mi hanno picchiato, vabbè, non mi hanno fatto capire niente. Perché ovviamente quando hai la palla non puoi sparare. Sono tutte belle partite e soprattutto combattutissime. L'ho ciccato totalmente. Vai, picchia, picchia, picchia. Eh, vabbè, ma io sono l'anello debole, signori. Cioè, di cosa stiamo parlando? Sono quello scherzo del gruppo. Chiaramente quello che nessuno vorrebbe avere in squadra. Oh, l'ho parata. Eh, però ti è piaciuta la parata, eh? Schiva, schiva, picchiatamelo. Bravissimi che corro sulla fascia, bravissimi. Sì, bene, bene il passaggio. Dai, manca pochissimo. Che gol hai fatto, Sbez? Non me lo aspettavo, ero in silenzio tombale. Mamma mia, Sbez, che gol hai fatto? Fuori di testa, ha fatto un tiro da centrocampo, un pazzo. Neanche Pelé faceva una roba del genere. Quindi dobbiamo resistere per 20 secondi, la vedo dura. La vedo durissima perché ci sono io in difesa. Ok, parata, parata. Sto giro... Spara la via, Masser. Bravissimo, Masser. Bravissimo, mi faccio i complimenti da solo. E ora... Oh my god, it's pew. Devi uccidere il nemico. Uccidetelo. Bravissimi. 7 secondi. Manca poco. Però anche la prima partita mi piaceva, ma mi sa che metterò questa perché la vittoria... Ma che... Boom! Partita conclusa. Mamma mia, signori, bellissima partita. Sbez il migliore, ovviamente anche... Oh my god, it's pew! Ha fatto una bellissima partita. E io, vabbè, il più scarso, palesemente, però un paio di parate le ho fatte. Siamo anche saliti con Colt. Vabbè, quanti? Ora ci daranno un botto di gettoni. Ok, 50 stelle totali, fuori di testa. E scriviamo il messaggino. E li salutiamo, signori, due grandi eroi che mi hanno aiutato nell'impresa per vincere. Bellissimo, tra l'altro, quello di Sbez. E quello di... Oh my god, it's pew, quanto è carino. E quello leggendario, che carino, che carino. Ok, signori. Mi mancherete. Oh my god, it's pew e Sbez. Nuovo invito, subito, così, senza neanche fare il taglio. Darkix, spero di averlo pronunciato bene. Darkix90. E anche GXTube. Lo accettiamo? Lo accettiamo. Dai, il trio delle meraviglie, parte 2. Buongiorno, amici. Allora, probabilmente qualcuno di voi giocherà 2 o 3 volte, perché non mi ricorderò assolutamente tutte le persone con cui ho giocato. Tanto stanno scrivendo, aspettiamo di vedere cosa dicono. Qua mi propongono di fare un arraffa. E arraffa, sì, risponde Masser. Quindi, per arraffagemme mi prenderei un bel bombardino. Vedo che i nostri due amici sono più agguerriti del solito. Proprio li vedo cattivo, soprattutto i giochi di Darkix sono belli agguerriti. E andiamo a cercare gli avversari. Come sempre due partite, come sempre farò schifo, come sempre sarete troppo più forti di me. Devo capire, soprattutto imparare, quali brawler sono meglio e soprattutto in che modalità. Tra l'altro, vabbè, qua li abbiamo già picchiati un botto. Vai giù di Spike, bravo GXTube. GXTube, che è stato picchiato, però, 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 il nostro l'abbiamo fatto. Allora, vedo che i nostri avversari hanno preso il controllo del centro, della hub centrale. Però gli attacchi ad aria in questa modalità mi sa che sono i migliori. Poi, ovviamente, se tu non li prendi gli avversari, Masser, fanno schifo gli attacchi ad aria. Eh, Masser, quanto fai schifo a questo gioco. Devo migliorare, devo decisamente migliorare. Allora, siamo 3 a 0 per... Qua 5 a 6... Eh, vabbè, ok, ok, con calma, con calma. Ok, ci hanno picchiato, va bene, va bene, sono stato picchiato. Ok, è colpa mia, l'ommetto. Però, quello lì che c'è una gemma possiamo uccid... Vai, questo ne ha 7, uccidiamolo. No! Sì, è morto! Sì, però li prendi gli avversari. No, sono a 10. Eh, ora è partito il controllo a rovescia, però, però, vedo che i nostri amici li hanno picchiati. Vai, uccidiamo lui. Bravissimo. Vai, remuntada. Remuntada, vai, scappa. Scappa, Masser. Colpo di scena. Signori, la situazione si è ribaltata da così a così. Si è ribaltata da così a così. GXTube, scappa, ti prego. Ti prego, scappa 10 secondi. GXTube stai dietro con me per 5 secondi, mentre l'altro ci fa da 2 secondi 1. Bravissimo, DarkX. Li hai distratti tutti, signori. Partita conclusa. Un bijou. Un bijou. DarkX migliora in campo, ma devo ammettere che anche il nostro amico GX, come Yu-Gi-Oh! GX, per chi l'avesse visto, fatemelo sapere nei commenti, è stato bravissimo. Che partita, che partita, signori. Fuori di testa sta partita, fuori di testa. Che squadra, che squadra sto incontrando. Siete veramente, ma veramente bravi. E vabbè, poi avete tutti i brawler del mondo, quindi lascia perdere quanto siete molto più forti di me. E, signori, dobbiamo dire addio ad altri due campioni, ma ci rivedremo più forti di prima. Un saluto a DarkX e un saluto a GXTube. Tra l'altro mi hanno inviato una richiesta di amicizia. Presa, la accettiamo. E, perfetto. Vediamo se mi arriva un'altra richiesta. Se no, la invio io tranquillamente. Signori, nuova partita con la bene amata Federica, che non era riuscita, appunto, a trovare un posto per giocare con me prima mentre registravo, perché eravate in tantissimi, e quindi ho deciso di fare una partita con lei adesso, perché è giusto che se lo meriti. Intanto io mi sto prendendo gli schiaffi. Schiappa! Schiappa, Fede, proteggimi! Proteggimi! Oddio! Grandissima! Brava, brava, sta facendo tutto lei. È fortissima. Vabbè, niente, è fortissima. Allora, dillo che sei fortissima. Dillo, vai, che prendiamo questo lui. Oh, yes! Oh, yes! Perfetto. E il primo team l'abbiamo devastato. Ora, io ti lancio un orso addosso, e Federica ci pensa lei a distruggerti. Vabbè, signori, è fortissima. Non lo so, va bene? Allora fai tutto tu, va bene? Va bene, fai tutto tu. Me lo sento che questa ce la portiamo a casa. Ok, potrei averla gufata, eh. Potrei un pochino averla gufata, però facciamo finta di niente. Intanto lei continua a picchiare come un fabbro. Siamo rimasti in tre team. Oh, come vada vada. Eh, scontro finale, bene, 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 bene. Noi abbiamo l'orso. Io mi sto tenendo pronta la ulti, perché appena ci muore l'orso, esatto, ne tiro un altro, perfetto. Noi gli diamo un secondo di tregua. Cioè, fede. Cioè, fede. Sei fortissima, eh. Sei fortissima. Vai, vai, picchia, 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 picchia. Vai, 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 che ce la portiamo a casa. Devastante. Devastante. Tra l'altro che capelli c'ho, che capelli c'ho, vabbè. Cioè. 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 Dico solo cioè. Basta, la concludo lì. Signori, che team. Che team. Ora io lo vado pure a scrivere in chat. Signori, non so perché, ma non mi ha registrato il torneone finale. Quello, le due amichevoli che abbiamo fatto. Non so sinceramente perché. E forse un'altra partita. Ma vabbè, quella importante era il mega torneone finale. Non so perché non me l'abbia registrato. Telefono infame. Sono un po' triste. Sì, devo ammettere che sono un po' triste. E magari anche voi sarete tristi. Spero di avervi fatto rientrare tutti. Sentite un po' come sono abbattuto. Ma va bene così. Cioè, in realtà non va bene così. Però, vabbè, è andata così. Comunque, quando mi vedete online, tranquillamente. Potete, tech, invitarmi. O meglio, inviarmi l'invito. E punto, gioco con voi tranquillamente. Però, vabbè, è andata così. Vi lascio alla continuazione del video. Mi dispiace, amici. Vabbè, intanto pensiamo a questa partita. Pensiamo a vincerla. Pensiamo a farla bene. E soprattutto a recuperare più gente di voi possibile. Allora, siamo in arraffagemme. Come avete visto. Mi stanno già picchiando. Cioè, proprio mi sto perdendo le sberle in testa. E, ok, stiamo qui tutto sulla destra. Ci nascondiamo. Io tirerei una sberlettina a questo. Tipo, zza, zza. A tradimento. A tradimento. Ok, per ora abbiamo il controllo del centro. Che è cosa buona e giusta. E Spettro sta facendo man bassa. Cioè, proprio, i peggio danni sta facendo grandissimo. Anche GX Tube pensa a prendere le gemme. Mentre Spettro pensa a picchiare gli avversari. E io penso a farmi picchiare. Ma va bene così. Cioè, guardate che compagni devastanti che ho. Che compagni devastanti. No, ho sbagliato, ho sbagliato. Eh, vabbè, mi hanno picchiato. Mi hanno picchiato. Ero finito in mezzo a tutti. Tra l'altro, mi sa che i miei due compagni stanno usando due leggendari. Non vorrei dire una stupidata. Uno è Spike, di sicuro. E l'altro, eh, non mi riviene in mente il nome. Ma so che voi lo sapete. La vedo un po' dura. Perché? Esatto. C'è la Spettro dalla zona avversaria. Ok, mi hanno picchiato. Stavo guardando i miei compagni. Vai, vai, vai. Picchiate quell'orsettone lì. Nient'altro. Non sono ancora riuscito. Ecco, squadra rossa contro la rovescia. Perfetto. Signori, nuova partita. Abbiamo fatto entrare nel team Dani. Vabbè, questi qua si sono lanciati sulle gemme. Come se non ci fossero domani. Ho cambiato anche Brawler. Ho preso la solita Nita. Ovviamente, vabbè, vedrete sempre i soliti tre che girano sostanzialmente. Ho preso pure una gemma. Sono contento. Sario però, 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 Massar si fa notare. Si fa notare dal team. E abbiamo ucciso Nita. Dai, manca solo lui. Però ci sta arrivando un orso in testa. Vai, uccidiamo sto, come si chiama, il primo. Ok, sono andato un po' troppo sgargiullo alla carica, eh. Devo ammettere che potevo anche starmene più calmo. E diciamo che li avrei potuti uccidere. Probabilmente sì. Probabilmente lui ha troppa vita per i miei gusti. Come farò? Gli lanciamo un orso in testa. Cosa fare quando non sai come sconfiggere un avversario? Gli lanci gli orsi in testa. 5 a 5 le gemme? No, 6 a 5. Quindi pareggio, sostanzialmente. Siamo lì, lì, per la parità. E gli avversari vogliono prendere il centrocampo, ma glielo stiamo impedendo. Vai, Dani! Bella carica, Dani! Ciao, ciao, ciao! Immune cosa? Immune perché? Perché immune abbiamo perso, mi sa. Sì. Perché era immune? Non l'ho capita. Spiegatemi la stessa situazione. E dai, bella partita. Ok, signori, abbiamo switchato sia un compagno di team, appunto se n'è andato Dani, che lo ringrazio per aver partecipato, come ringrazio tutti gli altri, e abbiamo switchato anche modalità. Siamo in Fudge Bro. No, ho sbagliato. Non sto capendo cosa è successo. Perfetto, sono morto. Dicevo, sono ancora, un tanto vi parlo un po' della mia tristezza, sono appunto abbattuto dal fatto che ho perso sia il mega torneone finale che avevano fatto, quello l'amica amichevole, sia appunto che ho perso in generale alcune registrazioni. Ora, alcune sono riuscite a prenderle, molte no, però questo qui ha il brawler fortissimo, non so chi sia dei due. Luke? No, 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 difendi, difendi, difendi. Uccidilo, 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 non l'ho visto minimamente. Bravissimo. C'era quello lì con la palla che non l'avevo visto minimamente. Vai a far gol? No, no, di quanto poco, no, dio, di pochissimo, di pochissimo, l'avevo visto in porta, ho detto, è fatta, signori, è fatta. E vabbè, che bordello, che bordello, c'hanno gli orsi, c'hanno il bordello, non sto capendo niente, non ci ho capito niente. Ninja, sai, ci ha ucciso Ninja, un saluto a Ninja che so che segue sempre i miei video. Dai, di pochissimo, abbiamo, stiamo rischiando di perdere quando praticamente c'era scritto in faccia vittoria. Che pampine. Abbiamo subito un gol stupido. Vabbè, signori, è andata così, dai, siete stati bravi, che palle potevamo vincere, però dai, avete giocato entrambi bene, quindi ci sta, ci sta. Quindi gli scrivo un bella partita e purtroppo dobbiamo sciogliere il team delle meraviglie. Quindi, signori, io ringrazio tutti per aver partecipato, spero di aver giocato con tutti, non lo so, in caso se non ho giocato con qualcuno, scrivetemelo che magari ci gioco anche off camera, senza registrare. Sono sicuro che questo video sarà durato sette giorni, ma vabbè, sarà lunghissimo. Vi ringrazio appunto e vi do appuntamento domani con un video non speciale, ma ricordatevi che dovrò fare Fortnite. Venerdì alle ore 15 per chi c'è, ci giochiamo e vi ringrazio. Ciao!